Ciao a tutti, bell'imbustizio vostro e bentornati sul mio canale di tattico, Diego ti spiego nella sezione della matematica. In questo video vedremo che vuol dire che una funzione è iniettiva e capiremo come fare a dirlo graficamente e matematicamente. Per affrontare questa lezione devi sapere almeno che cos'è un dominio e un codominio. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo subito che io ce tengo, per favore, oppure seguimi su Instagram. Vediamo che capisci qualcosa, no? Cominciamo con questo nuovo video in cui andremo a studiare una caratteristica molto importante delle funzioni. Questa caratteristica è l'iniettività. Per capire quando è che una funzione è iniettiva andiamo innanzitutto a dare una definizione di iniettività. Una funzione si dice iniettiva se ogni elemento dell'insieme B è immagine al più, cioè al massimo, di un elemento dell'insieme A. Abbiamo visto nello scorso video che cosa sono l'insieme A e l'insieme B. Ebbene, l'insieme A non è nient'altro che l'insieme delle X, che noi abbiamo chiamato dominio, mentre l'insieme B non è nient'altro che l'insieme delle Y, che noi abbiamo chiamato codominio. Ora, quando una funzione è iniettiva, cosa succede? Che per ogni elemento di A, quindi per ogni elemento X, abbiamo una immagine di B. E vedete, sono queste qua segnate, no? Tuttavia ci sono degli elementi di B che non sono immagine degli elementi di A. Quindi questo che cosa vuol dire sostanzialmente? Beh, esattamente quello che abbiamo detto adesso, cioè ci possono essere elementi di B che non sono immagine degli elementi di A. Vedete, come in questo caso ci sono due elementi in B che non sono immagine degli elementi di A. Tuttavia, non ci possono essere elementi di B che sono immagine di più di un elemento di A. E questo, in buona sostanza, che cosa vuol dire? Che io, per esempio, non posso avere questo caso qui, cioè che un elemento di A ha due immagini di B, cioè ha due valori di Y in corrispondenza della stessa X. E questo, quindi, ci chiarisce in maniera inequivocabile che vuol dire che è una funzione iniettiva. Vuol dire, in buona sostanza, che se io ho due elementi distinti, x1 e x2, quindi due elementi diversi dell'insieme A, devo avere necessariamente due elementi distinti dell'insieme B. E questo lo posso dire scrivendolo in questo modo, cioè, preso un x1 diverso da x2, cioè presi due elementi differenti, distinti, dell'insieme A, devo avere necessariamente due elementi distinti dell'insieme B. f di x1, infatti, non è nient'altro che y1, mentre f di x2 non è nient'altro che y2. Possiamo, quindi, andare a fare un'osservazione fondamentale, ovvero che il codominio può non corrispondere all'insieme immagine. Infatti, vedete, noi abbiamo detto che l'insieme B è il nostro codominio, ma l'insieme immagine è un insieme più stretto del codominio, perché è l'insieme di tutti e soli quegli elementi di B, che sono immagini degli elementi di A. Quindi vedete che l'insieme immagine, in realtà, nel nostro caso, è costituito soltanto da questi tre elementi, che sono l'immagine dei tre elementi di A. Ora, ragazzi, questo è tutto molto teorico, ma come facciamo a vedere nella pratica se una funzione è iniettiva oppure no? Lo possiamo vedere in due modi differenti. Il primo modo è quello grafico, quindi se conosciamo il grafico della funzione. Il secondo modo è quello algebrico, e andremo a vedere entrambi. Prendiamo quindi questa tipologia di funzione. Come possiamo dire che è iniettiva? Beh, vedete, innanzitutto è evidente che se io prendo due valori distinti x1 e x2, otterrò due valori distinti f di x1 e f di x2. Quindi ad ogni elemento di x corrisponde uno ed un solo elemento di y, ovvero del nostro codominio. Tuttavia, cosa succede? Questo non avviene per tutte le x, perché vedete che se io vado a prendere queste x qua, per esempio, io non riesco a trovare la funzione in nessun punto, quindi ci saranno delle x per cui io non ho nessuna y in corrispondenza. Allora, cosa posso dire? Posso dire che graficamente una funzione è iniettiva se tracciando rette orizzontali incontro sempre la funzione una sola volta, ma questo non avviene per tutte le rette orizzontali che posso andare a tracciare. Cioè, per capirci, se io mi trovo in questa zona, vedete, tracciando una retta orizzontale incontro la funzione solo in un punto. Se traccio un'altra retta orizzontale più in basso incontro la funzione solo in un punto. Tuttavia, se traccio una retta orizzontale ancora più in basso, qui non incontro proprio la funzione. E quindi questo vuol dire che cosa? Che ci saranno delle y che però non sono immagini di nessuna x della nostra funzione. Nella zona in cui però lo sono, ogni elemento di x corrisponde ad uno e un solo elemento di y. Facciamo quindi un controesempio. La funzione che ho disegnato qua chiaramente non è iniettiva. Per quale motivo? È vero che le rette orizzontali che posso andare a tracciare non la incontrano sempre. Vedete, quindi se traccio una retta orizzontale qui non la incontro. E però, vedete, succede anche che dove la incontro non la incontro una sola volta, ma ci sono delle rette, per esempio quella che ho disegnato, che la incontrano ben quattro volte. Quindi questo che cosa vuol dire? Che io avrò la stessa immagine per ben quattro elementi dell'insieme del dominio. Quindi vuol dire che per ben 4x io avrò la stessa y. Quindi quattro elementi di A convergono tutte sulla stessa y. Questa funzione chiaramente non è iniettiva. E questo, ragazzi, è il metodo che io posso seguire per andare a vedere se una funzione è iniettiva graficamente. Adesso però andiamo a vedere quello più interessante, che è quello matematico. Per capire se una funzione è iniettiva algebricamente, devo andare a utilizzare la conclusione che ho scritto in precedenza. Però la devo un secondo rovesciare. Prima che cosa ho detto? Che se x1 è diverso da x2, quindi se ho due elementi distinti del mio dominio, allora devo avere anche due elementi distinti dell'insieme immagine. Però posso ragionare anche al contrario. Cioè, se io prendo due elementi uguali del mio insieme immagine, allora necessariamente devo partire dall'assunto che i due elementi iniziali del mio dominio debbano essere uguali. Quindi questo che cosa vuol dire? Mi basterà prendere la mia funzione, imporre che f di x1 sia uguale a f di x2 e verificare alla fine dei calcoli che ottenga la relazione x1 uguale x2. Fatto questo, ho verificato che la mia funzione è iniettiva. Più facile a farsi che a dirsi, ragazzi, e lo proviamo con una funzione di questo tipo, y uguale a 2x meno 1 fratto x più 2. Allora, cosa abbiamo detto? Cosa devo fare? Devo scrivere che f di x1 è uguale a f di x2. f di x1 che cos'è? La mia funzione dove al posto di x ci ho messo x1. Quindi come mi verrà fuori? 2x1 meno 1 fratto x1 più 2. Adesso questa roba la devo porre uguale a f di x2. Cioè la mia funzione dove al posto di x ci metto x2. Quindi 2x2 meno 1 fratto x2 più 2. E non devo fare nient'altro che fare i calcoli. Cosa farei qua? Il minimo comune multiplo. Ricordatevi che al momento x1 e x2 sono due elementi distinti. Quindi il minimo comune multiplo sarà ovviamente x1 più 2 per x2 più 2. E lo faccio ovviamente da una parte e dall'altra. Quindi al primo termine che cosa ottengo? 2x1 meno 1 per x2 più 2. E da questa parte ottengo 2x2 meno 1 per x1 più 2. Ho fatto semplicemente il minimo comune multiplo e le moltiplicazioni. quindi tolgo i denominatori, non mi preoccupo della condizione di esistenza perché x1 e x2 sono numeri e faccio le moltiplicazioni. Quindi cosa ottengo? 2x1 per x2 più 4x1 meno x2 meno 2 uguale 2x2 per x1 più 4x2 meno x1 meno 2. Ora vedete che succede? Meno 2 e meno 2 se ne vanno. 2x1 per x2 e 2x2 per x1 se ne vanno perché sono la stessa roba. Vedete che se passo per esempio le x1 tutte da una parte, quindi questo meno x1 lo passo di là, mi diventa 5x1 perché si somma con 4x1. e se porto questo meno x2 di là, mi diventa 5x2. Dividendo ovviamente per 5, che cosa ho trovato? Ho trovato che x1 è uguale a x2. Quindi che ho detto? Partendo dall'assunto che le y siano uguali, ho ottenuto ovviamente che anche le x siano uguali e quindi che per lo stesso elemento di x ottengo lo stesso elemento di y. Quindi ho verificato che la funzione è iniettiva. E' tutto qua ragazzi. Adesso vi faccio vedere un esempio in cui la funzione matematicamente non è iniettiva. Supponiamo di prendere la funzione x alla seconda meno 3. E' chiaramente una parabola. Dal disegno della parabola, ragazzi, adesso ho disegnato una parabola generica, è evidente che quella funzione non è iniettiva. Perché per quello che abbiamo detto prima, se io traccio delle linee orizzontali, quella incontra la funzione in ben due punti. Quindi chiaramente non è una funzione iniettiva. E poi ci sono delle y in cui la funzione in più non viene neanche toccata. Quindi facciamolo matematicamente. Quindi per quello che ho detto prima, devo fare x1 quadro meno 3 uguale x2 quadro meno 3. Ora vedete, togliete meno 3 e meno 3. E qua cosa siete portati a dire? Vabbè, faccio la radice quadrata e mi viene che x1 è uguale a x2. Quindi in realtà perché hai detto che è un'iniettiva? Non è vero. E no, ragazzi. Quando faccio la radice quadrata, da questa parte ci devo mettere più o meno 2. Quindi non è vero che x1 è uguale a x2, ma è vero che x1 è uguale a più o meno x2. Quindi non è lo stesso elemento, ma x1 corrisponde a due elementi di x2. E quindi la nostra funzione assolutamente non è iniettiva. Concludiamo con un paio di osservazioni. La prima è una domanda. E la domanda è, posso rendere una funzione non iniettiva iniettiva? Ebbene, la risposta è sì. E per capire questa cosa prendiamo la nostra amica parabola. L'equazione di questa parabola è ovviamente y uguale a x alla seconda. Abbiamo detto prima che non è una funzione iniettiva. Perché? Perché l'abbiamo dimostrato matematicamente e anche graficamente. Tuttavia, che cosa potremmo dire? Potremmo dire, accontentiamoci di prendere per esempio un pezzo di parabola, cioè quella disegnata per x maggiore o uguale di 0. Cioè, togliamo questa parte qua. Vedete, a questo punto, graficamente, quella parte di parabola mi sembra proprio una funzione iniettiva, perché se vado a tracciare delle rette orizzontali, quelle la incontrano solo e soltanto in un punto. Questa cosa ha un appoggio matematico? Assolutamente sì, perché per x maggiore o uguale di 0, l'equazione di quella parabola, quale sarà? Sarà x uguale radice di y, perché è un ramo di parabola che è per l'appunto un'equazione irrazionale. E questa tipologia di funzione è per l'appunto una funzione iniettiva. E questo quindi che cosa vuol dire? che se mi accontento di fare una restrizione sulla funzione, cioè di prendere soltanto una porzione, alcune funzioni possono diventare delle funzioni iniettive, anche se in partenza non lo sono. La seconda osservazione che posso fare è la seguente. È soltanto un accenno di quello che vedremo in un prossimo video. E cioè, se una funzione è iniettiva, allora è invertibile. E se è invertibile, posso andare a calcolare la funzione inversa. Come detto però, questo sarà argomento di uno dei video successivi. Spero di essere stato molto chiaro sul concetto di iniettività e come faccio a dire che una funzione è iniettiva matematicamente e graficamente. Non vi perdete il prossimo video in cui vedremo quando una funzione è suriettiva. Grazie per avermi seguito anche oggi e alla prossima.